Ben ritrovati ai telespettatori di Cilento Channel, l'appuntamento settimanale dedicato alla nutrizione e al benessere in compagnia del dottor Andrea Ricci, biologo nutrizionista, che per questa edizione ci parlerà del riso e delle sue proprietà. Allora, dottore, quanti tipi di riso esistono in commercio e perché mangiarlo? Quali sono le proprietà? Sì, allora, il riso è un cereale che deriva dalla cariosside di una pianta erbacea annuale di origine asiatica. In Italia la sottospecie più coltivata è quella japonica, di cui ci sono quattro varietà, quindi i risi comuni, fini, semifini e superfini. Ovviamente i valori nutrizionali, dato la grande varietà di riso che abbiamo, cambiano molto a seconda della varietà, però a grandi linee possiamo, i due più utilizzati, dividere, quindi i risi brillati, bianco e il riso integrale. I valori nutrizionali sono ovviamente a favore del riso integrale, non tanto per il numero di calorie, dove più o meno siamo molto vicini, per 100 grammi il riso brillato apporta 332 calorie, il riso integrale 337. Però il riso integrale ha comunque una maggiore concentrazione di fibre, di sali minerali, quindi potassio, sodio, magnesio, calcio, fosforo e vitamine, soprattutto vitamine del gruppo B. E in più ha un indice glicemico più basso, per cui è indicato anche per i diabetici. La caratteristica del riso ovviamente è quella di essere molto ricca di amido, per cui assorbe acqua e questa capacità in effetti lo rende anche meno calorico, più saziante e anche più digeribile rispetto ad altri cereali, come per esempio anche la pasta. Non contiene glutine, per cui può essere consumato dai celiaci e c'è un'ampia gamma di prodotti a base di farina di riso, come anche il pane di riso o la pasta di riso. Ha un apporto proteico limitato, per cui può essere inserito nelle diete di chi soffre di iperuricemia, di cotta, di fenilcretonuria. Contiene potassio e poco sodio, per cui può essere consumato anche da chi soffre di ipertensioni. E in effetti la famosa dieta del riso, che oggi è un po' fuori moda, fu inventata proprio da un medico che si occupava di soggetti affetti da ipertensioni. Il riso integrale è ricco di fibre, per cui aiuta anche il transito intestinale, quindi contrastando la stipsi. Mentre al contrario il riso bianco, se consumato con una certa frequenza, quindi anche molto alta, tende un po' a avere l'effetto opposto. Una curiosità, c'è anche in commercio il riso nero, che cosa possiamo dire per quanto riguarda quest'altra caratteristica? Sì, il riso nero ovviamente è di origine cinese, il riso nero venere, ed ha questa caratteristica perché è molto ricco di antocianine, quindi di molecole antiossidanti. Però ne esistono di tantissime varietà, quelli più consumati in Italia in genere sono il riso arborio e il carnaroli, che vengono utilizzati soprattutto per i risotti. Però esistono anche il riso parboiled, che subisce un trattamento con l'umidità per far concentrare nel chicco maggior quantità di sali minerali e di vitamine. Però, indipendentemente dalla verità, è consigliata sempre per una porzione media di 80 grammi di utilizzare un riso integrale, però sempre abbinato magari con delle verdure o con dei legumi. Questo sempre per tenere sott'occhio anche l'indice glicemico. In generale comunque il riso non ha particolari controindicazioni, se non che chi è in sovrappeso o obeso ovviamente non ne può fare un consumo molto frequente nella settimana, così come anche chi soffre di trigliceridi, appunto per chi ha la glicemia alta o il diabete deve comunque orientarsi verso delle scelte di riso integrale. Come metodo di cottura che cos'è che consigliamo ai nostri telespettatori? Sì, anche i metodi di preparazione sono importanti, soprattutto per l'indice glicemico. In effetti rispetto a un classico riso bollito in acqua in bianco, che ovviamente ha un indice glicemico molto alto, è preferibile magari un risotto oppure un'insalata di riso fredda, oppure un riso cotto all'orientale, cioè in un'acqua fredda che deve essere il doppio del riso senza scolarlo. Questo ovviamente ci permette di avere un indice glicemico più basso, che però ovviamente non basta da solo, ma va comunque inserito all'interno del carico glicemico di tutta la giornata. Grazie dottore, grazie anche ai nostri telespettatori. L'appuntamento con la rubrica nutrizione e benessere torna la prossima settimana, sempre e soltanto su Cilento Channel.